Sparatevi! Sparatevi! Sparatevi dietro ti prego! Il premio in Montepremi, cioè il premio in Montepremi, vabbè ma avete capito? Vi invito a cenare con me e una sub per un anno a tutte e due Allora, Jant90 cattivo, signori mi dispiace, quindi sono 9 sub, mi dispiace Ma no, non insultate, non potete insultarli! Anzi no, potete Potete insultare in modo buono i cattivi e potete elogiare in modo goliardico i buoni Cagotto pazzo cattivo, Ernest cattivo Casa di sacco, casa di sacco, casa di sacco No, ma che casa di sacco, zio? Ma che è casa di sacco? 8 kill, 8 kill dovete fare 8 kill signori, 8 kill signori Spacco bottiglia 5 sub, buono o cattivo spacco bottiglia? Buono, mi ha scritto su Twitch Ma che ti ha scritto su Twitch? Ma no, lo giuro, mi ha scritto su Twitch Se è cattivo dovete fare 13 kill signori, 13 kill Ma non sta ancora scrivendo No dai, non esagere Ma com'è super buono? Ma com'è super buono? Grande! Di pompinei Di pompinei No, ma non è giusto però che fare i complimenti ai buoni e ai cattivi di insultate eh? Non mi piace questa cosa eh? Spacco bottiglia ma... Spacco bottiglia ma... Spacco bottiglia dono famiglia Ma guarda tu questo maleducato screanzato Ma questo? Dovete fare 4 kill, 4 kill, 4 Ma come GG spacco bottiglia? Siete di bastardi state attenti questo è un richiamo Che provate a fare le avance per farvi donare delle sob Voglio vedere quanti cattivi ci sono in chat Quanti vogliono vedere cadere questi pirati di merda? Dove siete cattivi? Spammate... Arrrr Se siete cattivi in chat Arrrr Cattivissimo ma senza neuro Vai tranquillo Borzumone Te le voglio bene L'importante è quello Fai parte del gruppo Ma come miau? Adesso invece è il turno dei buoni È il turno dei buoni signori Non devi sentire i buoni È il momento dei buoni Ragazzi potete prendere una zip che vedo il fovo aumentato Fabio buono Morningstar cattivo Buoni e cattivi Si annulla tutto E quindi quante kill devono fare? Notaio Ma come Morningstar Notaio bastardo? Guarda che non vi conviene farvi nemici cattivi eh Siete stupidi Andiamo qua Perché sennò gli fa di incazzare ancora di più bro Aspetta 4 kill devono fare Dovete fare 4 kill signori 4 kill Però aspetta Peppe Non so se è buono o cattivo Peppe Peppe è cattivo Si torna il nome Peppe Pezzo di merda No come pezzo di merda Peppe è bastardo Signor Peppe Gli direi il colpo di grazia Altro 5 Peppe Li massacri Quanto? Quanto lì dobbiamo fare? Dovete fare 9 kill ragazzi in totale 9 kill arrivare entro top 3 Dai non ce la fate Che fate se chette? Pippette di merda No mi si è buggato Mi si è buggato il La visuale no Che buono godo Godo Gustavini è buono come la porchetta 8 kill ragazzi 8 kill Grande Bravo pigna No come bravo Come bravo Signori Indovinate che avete fatto arrabbiare il Peppe sbagliato Bastardo di nuovo Sì Auguro una cacarella Fischietto proprio Peppe è cattivo Cattivissimo Tornate Tornate quindi Correggimi se sbaglio A 13 Quante kill hanno scusate eh Zero kill ma sono delle pippe Comunque c'è da dire che questi che stiamo vedendo ragazzi Allora come comunicazione ci sono ma sono delle seghe eh Hanno proprio paura Hanno paura di pushare eh Sono anche un po' centro safe ragazzi siete d'accordo Chat Giuria giuria gli chiedo un voto alla giuria per quanto riguarda questi ragazzi Se li vedete in forma se possono vincere la sfida oppure no Considere che potreste essere voi i prossimi con un vostro amico Quello che vi chiedo è preparatevi con un vostro amico per combattere Preparatevi per combattere con un vostro amico signori Sono delle pippe Ah ragazzi allora posso dire una cosa posso dire una cosa Come voi come loro sono cattivi No 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 Ok questo cos'è? Non mi piace Cava Allora signori mi dispiace ma il signor Cavadecish Che se volete potete insultare ma non so quanto vi conviene Via Cavendici io cambio i nomi 10 sub cattivi quindi andate a 22 22 dovete pushare signori Grazie Cavadecish grazie Ah come mai adesso siete diventati buoni anche con i cattivi No 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 Grazie adesso grazie Questi grazie mo Questi giocano si stanno giocando la vita A me 10 sub Tutti concentrati tutti dai camperiamo ci mancano pochi kill Giate da me giate da me Ricordiamo che la sesta safe è l'ultima per donare non si può più donare dopo la sesta Cioè è prima della sesta appena fa la sesta non si può Io non so se lo sanno che devono sparare Vediamo questa Mi fanno pena 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 Mi avete fatto Meno 13 Meno 13 sub bro Dovete solo camperari Arriva a terzi rega top 3 No no Cattivo Rapirob è cattivo Bravo cattivo Meno 1 quindi 11 Ragazzi state a meno 11 kill più le due che avete fatto meno 13 kill ok Meno 12 No però gli hanno donato una sub cattiva quindi è meno 11 Era meno 13 prima Ah ok perdonami perdonami giusto Cioè l'excel Hai fatto un excel per sta cosa Ma come hai fatto l'excel Come le mine queste stanno a giocare così ma questi sono dei camperoni di merda Io stacco dopo questa perché sennò oggi veramente è successo un casino ok Ma tu li porto a mangiare questi ma dove li porto a mangiare Il posto quello bello Che posto bello di che li porto bro o sai tu li porto bro Quello a Roma la quella che devo andarci pure io però alla fine non ci siamo più andati Non li porto al mech però Cazzo me la frega a me C'è un altro demon shop che mi smoccava Come c'è un altro demon shop Ma poi donate più sub quando devo Oh a me me le donate le sub Me le donate ma non troppe Quando faccio queste cose me le donate in botto Mortarci i costi mortarci Mi dovete far fare Spenni i soldi per donare sub Guarda dai dopo Dariette sbollenti per prendere un bel frappè Eh cazzo è vero dopo vanno a prendere il frappè Vabbè una cena per 300 sub 300 l'ho donate io L'ho donate io 300 sub Manca una safe Manca una safe Per donare e fargli andare in negativo Ultima safe 30 secondi ragazzi Appena chiusa la quinta safe Non potete più donare ragazzi eh Sesta safe non si può più donare Anche l'ho dio Eh mi spara Ma dai Il solito blessato Muori bastardo muori Mi hanno cecchinato Vieni 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 Assurdo 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 I cattivi 33 secondi I cattivi possono fare la differenza Meno 3 cattivi Dai eh Oddio 30 secondi 25 24 Bravo Otlo Cattivo Otlo Cattivo Otlo e Peppe 15 sub cattivi 16 secondi 15 secondi Non potete più donare tra 15 secondi 12 11 10 9 Stop al televoto Stop Adesso stop Ok stop è finito tutto Signori hanno donato 15 sub cattive Ok però bisogna sapere Cattivo Era cattivo Era cattivo Era cattivo Però ce l'hanno ce l'hanno le kill Allora devono fare 3 kill Ce l'avete già Ce l'avete già 3 kill ragazzi Che culo di merda Dovete solo arrivare primi secondi e terzi ragazzi Stare a posto Si E' morto E' morto E' morto E' morto Devi camperare adesso Devi solo camperare Ragazzi devi arrivare solo top 3 bro Ce l'hai fatta dai Calmi Le kill state a posto Primo secondo terzo dai Vediamo se vinceranno i buoni o i cattivi Ricordiamo che Vi offrirò una cena E' una sub per un anno Eroi di altri tempi 25 cristiani ragazzi ma Settima safe Settima safe 25 persone Senti dosso 8 team 8 team e ne mancano Altri 5 Ci arrivano quarti e impazziscono 7 Non ha placche 5 Oddio 4 5 5 5 5 6 8 8 C'è uno qua C'era uno vicino C'era uno 2 Sparate Sparate Sparatevi dietro Ti prego Qualcuno gli spari Nooo Guardate il cespuglio Non ho una cena Non ho una cena Lo prego La prego Vi pari con quosi tre Essete passati Scacazzate sul cespuglio Vi fair Vi prego Scacazzate sul cespuglio Un Cireno Non Cireno basta non le faccio più sfide non le faccio più tre la tre la tre la si è mosso no guardi qualcuno li guardi mi spari mi spari le prego ma mamma scusa mamma sta buona si la senti tossire no stiamo pure a andare a cena con questi ste pippe i primi vincitori di buoni e cattivi signori i primi vincitori di buoni e cattivi signori i primi vincitori di buoni e cattivi prima vittoria dei buoni la prima vittoria dei buoni non si può vincere sempre signori ma perché non hai sparato a quello per terra bro bro c'era quello per terra lo spara via quello per... infatti non ho capito non ho capito io spara via il culo a destra erano due... ma come non l'hai visto bro marcozio c'è una skin bianca a mezzo al marone sembrava una scacassata io devo sannaccina con voi due ma non abbiamo frappè ma vaffan cuccola lo frappè saprà proprio di merda stasera ragazzi a mezzo 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 a me